Una sorta di faro che detterrà le linee guida e le strategie turistiche per i prossimi anni. È il risultato del lavoro di analisi sul settore turistico, realizzato dall'assessorato al turismo in collaborazione con il destination manager Josef Jarche, che insieme hanno redatto un documento di circa 300 pagine, poi riassunto in Unva de Mecum che il comune di Fano utilizzerà ed adotterà nel piano strategico del turismo 2020-2024. Confrontandoci sia con il mondo del ricettivo, sia con le associazioni culturali, capendo come il mercato turistico ci percepisce in questo momento, è stato stilato un piano strategico che finalmente, mercoledì 24, in diretta streaming sui canali Visit Fano e Comune di Fano alle ore 18, insomma presenteremo alla città. Il documento, che sarà presentato mercoledì 24 febbraio alle 18, dallo stesso Josef Jarche, presso la chiesa di Santa Maria del Gonfalone ed in diretta streaming, all'intento di rendere Fano maggiormente percepita dai mercati e oltre ad organizzare strutturalmente il lavoro da effettuare nei prossimi anni grazie ad una rete pubblico-privata, suggerisce come valorizzare le specificità culturali della città tramite azioni di marketing e comunicazioni, un'analisi che acquisisce un valore aggiunto, visto che in tempi di Covid le necessità dei turisti sono ulteriormente cambiate. Un piano vero che dobbiamo adottare convintamente tutti, ovviamente che noi come amministrazione porteremo avanti, ma che anche tutti gli stakeholder del turismo dovranno adottare per far crescere la nostra città.